Musica Ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV Oggi è venerdì 14 luglio e questa è la rassegna stampa Allora, occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo del giorno Lo vediamo subito con la grafica Oggi è San Camillo dell'Ellis Il sole sorto alle 5.38 tramonterà alle 20.49 Andiamo a vedere adesso il tempo, il meteo con il bollettino della protezione civile Perché da stasera cambia il tempo, diminuiscono le temperature La rotazione dei venti cambia e dunque arriverà da nord Avremo per la giornata di oggi rovescio temporali sparsi Dalla tarda mattinata al pomeriggio Principalmente però sulla montagna, sull'entroterra marchigiano e collinare Però è possibile l'interessamento anche della costa Quindi attenzione, localmente i fenomeni potranno risultare anche intensi Specie nel settore centro-meridionale della regione Come abbiamo detto, le temperature sono in diminuzione I venti moderati nord-orientali Il mare sarà mosso, ma a tratti molto mosso Quindi attenzione, domani, sabato, fine settimana 15 luglio, cielo poco nuvoloso Per il transito di velature Addensamenti più consistenti Saranno possibile ridosso dei rilievi Durante le ore più calde della giornata Le temperature sono in lieve diminuzione Nei valori minimi i venti saranno deboli o moderati La domenica, per domenica il 16 luglio Avremo cielo poco nuvoloso Con qualche addensamento Più consistente nelle zone interne Durante le ore più calde della giornata Le temperature sono in diminuzione I venti moderati dai quadranti settentrionali Anche il mare sarà inizialmente mosso Poi domenica il moto ondoso andrà in graduale indebolimento Il tempo sarà buono anche per l'inizio della prossima settimana Verebbe da dire, tocchi si rivede Guardando la fotografia pubblicata questa mattina Sull'edizione pesarese del resto del Carlino Si rivede l'ex direttore generale di Banca Marche Massimo Bianconi Rispunta a sorpresa in tribunale ad Ancona Nel processo nato da un'inchiesta stralcio Sul crack di cui lui è accusato Non lo si vedeva praticamente da anni Faccia a faccia con Goffi Intanto prende corpo la cura dimagrante Di filiali e dipendenti del nuovo Istituto Poi sul giornale il resto del Carlino Troverete all'interno anche notizie come Come quella di un mobiliere che sta tentando di fermare Parte delle opere compensative Nuove strade c'è chi dice no Ricorso al TAR e richiesta danni La famiglia Carloni chiede 8 milioni ad autostrade Comune e province Il vostro progetto, dice la famiglia Porterà alla chiusura della nostra attività E poi la strage di animali Acqua putrida e letale Il canale Albania Fano diventa la tomba dei cigni Eccone uno fotografato Ma sono in tanti purtroppo E queste le altre notizie in breve Lo vedremo tra un istante La notizia che il legale della famiglia Fraticelli ha inviato al giudice I post che colui che ha preso sotto e ucciso appunto due persone in auto In un incidente stradale I post che ha scritto su Facebook dove in qualche modo inneggiava al bere E allora entriamo nella pagina di Fano del resto del Carlino Adesso i Fraticelli attaccano l'investitore Su Facebook inneggiava al bere L'avvocato Coli e la famiglia dicono Non è stata una fatalità ma un rischio voluto Elisabetta Rossi in questo articolo Cita un po' alcuni post Per esempio questo dove lui scrive Enrico Turchi di 30 anni di Senigallia Si passa dalla sua adesione Il cosiddetto movimento 5 litri Al video su 9 modi per bere la birra Fino al compiaciuto ricordo di anni e anni di serate e sbando Il legale della famiglia Fraticelli prima dell'udienza ha depositato una memoria in cui appunto accusa Enrico Turchi Ebbene tutto ciò secondo l'avvocato dei Fraticelli non fa che dimostrare che la tragedia di sabato scorso Non è una tragica fatalità ma l'inevitabile approdo di una scelta consapevole e reiterata nel tempo Di rinunciare alla lucidità mentale e di costituire deliberatamente pericolo per sé e per gli altri Parole dell'avvocato riportate appunto nell'articolo di questa mattina Che potrete leggere per intero sul giornale Il resto del carlino in edicola Poi c'è stata una grossa polemica nei giorni scorsi nelle Marche Dove la regione intendeva utilizzare i 17,5 milioni di euro raccolti a favore dei terremotati Con i famosi SMS Una parte di questi 17, cioè 5 milioni e mezzo La regione aveva deciso di destinarli ad una pista ciclabile da realizzare a Macerata Ebbene è scoppiato il finimondo Adesso c'è stato questo dietro fronte Dopo le polemiche il governatore Luca Ceriscioli ieri ha rivisto questa sua decisione I soldi invece che per la pista ciclabile verranno usati per le scuole E il recupero del municipio di Arquata del Tronto A Fano polemiche invece per questa strage annunciata diremmo noi di animali Una strage di Oche, Ana, Trecigni Volatili morti dopo che la via d'acqua era stata prosciugata Il CRAS, il centro di recupero animali selvatici Salva altri animali e si appella ai privati E dicono quelli del CRAS serve un laghetto In alcune zone l'acqua è rimasta però era praticamente putrida Ed è stata bevuta da questi animali Ed evidentemente poi questo è il risultato Sulla pagina di Fossombrone invece addio al sindacalista Filiberto Gargamelli è morto ieri a Fossombrone Aveva 68 anni Gli amici parlano di lui e dicono È stato per noi un esempio di coerenza Si è spento ieri mattina all'ospice dell'ospedale di Fossombrone Storico sindacalista della CGL Figura molto nota e apprezzata Alla fine il cancro se l'è portato via E quindi adesso lo piangono in tanti In questa fotografia lo vedete anche con Don Luigi Ciotti Sotto a Cantiano invece Se ci prendete l'acqua del Burano Perché poi la buttate e la sprecate Polemica presa di posizione del vice sindaco Matteacci Da Urbino invece Urbino Michelli volterà le spalle Ma a chi dopo le politiche vedrò chi lasciare Dopo la rottura con Giorgio Londè L'ex ADC lavora sotterraneo Sotto invece il Partito Democratico reinventa la festa dell'unità Prima alla data e poi itinerante per le frazioni Apriamo adesso il Corriere Adriatico La prima pagina è questa La cronaca prende a bottigliate il fratello Ed è stato arrestato per tentato omicidio Con l'uomo in carcere e anche il genero L'ite familiare che è iniziata al bar È successo a Pesaro una storia di diverbi Di sensi e liti in famiglia Con un finale che parla di botte da orbi E di una violenta bottigliata tra capo e collo Che ha fatto scattare un doppio arresto Con un'accusa gravissima Quella di tentato omicidio È successo l'altra sera a Monte Ciccardo Nell'Interland pesarese Rapporti familiari dunque difficili Vecchie ruggini I protagonisti sono due fratelli tra i 45 e i 50 anni Entrambi di Monte Ciccardo E il marito della figlia di uno dei fratelli Mentre la foto grande è per la nuova Ipercop Subito a vela spiegata L'altra faccia Chiudono i punti invece locali del Dico Tuo Di Quindi da una parte Ipercop Che va a gonfiavele Dall'altra invece questi punti Dove far la spesa un po' più piccoli Come appunto il Dico Tuo Di Che invece chiudono Folla per l'inaugurazione Dopo il restyling Del colosso della grande distribuzione La pagina di Fano invece Morta a Torrette per un'emorragia Chieste condanne per tre medici Dramma dopo la visita di controllo nel 2015 Familiari parti civili Sentenza che arriverà a settembre Soluzione invece per un quarto dottore indagato Tutti hanno deciso per il rito abbreviato La politica e sanità A muraglia dove verrà costruito il nuovo ospedale Muraglia e contentini Aspettiamo le elezioni Udc progetto Fano Forzisti e la tua Fano Compatti e dicono tutti no a una soluzione condivisa Il prosciutto di Carpegna Andiamo a Urbino Nella pagina di Urbino Il prosciutto di Carpegna Alla conquista dell'America Beretta e Cristini Spingono verso gli Stati Uniti Prodotto unico e un'etichetta per raccontarlo E poi ancora di spalla Qui si parla della famiglia Fraticelli Saltara piange i Fraticelli Coppia unica Grandi lavoratori Oggi l'autopsia della coppia Poi il nulla osta ai funerali Nulla osta all'esequio Ma ancora è presto Per dire esattamente Con ufficialità Quando si terrà Questo funerale Però insomma Anche noi vi terremo Certamente informati Sulla pagina di Fano Ancora del Corriere Adriatico Carnevale estivo Provaci ancora Una sfida da vincere In tre giorni Archiviate le polemiche Da stasera si passa ai fatti Infatti stasera inizia A Fano il Carnevale estivo Aspettando quello chiaramente Invernale del 2018 Carri, musica, cene e show Lungo la spiaggia di Sassonia Poi raccolta differenziata Ha aperto il centro di Calcinelli La sede è costata 235 mila euro E servirà circa 30 mila persone Accoglierà 25 tipi di rifiuti È stato studiato per questo nuovo centro Di raccolta differenziata a Calcinelli Per servire una popolazione Di circa 30 mila persone Quindi un bel centro Andiamo un attimo Nella cronaca di Macerata Ricorderete nei giorni scorsi Quel figlio con problemi psicologici Psichiatrici Che a un certo punto È entrato a casa E avrebbe ucciso la madre Ebbene Oggi dal Corriere Adriatico Si apprende che C'è questo colpo di scena Che arriva dall'autopsia Dall'esito dell'autopsia La donna è morta Ma per la caduta Quindi il medico legale Esclude la possibilità Che la mamma di Bordoni Di questo signore Del figlio Insomma Sia stata aggredita Con il mortaio Quello per la carne Il difficile è ora capire Se comunque Sia stato il figlio Poi si uccida A spingerla Come invece È già accaduto Nel mese di agosto E questa è la cronaca Sulla pagina di Macerata Poi Dalla pagina delle Marche Invece Il racconto fiume di Goffi E parliamo ancora di Banca Marche Quei 100 milioni spariti L'ex amministratore delegato Di Nuova Banca Marche Ha il processo contro Bianconi Presente in aula E gli imprenditori Casale E De Gennaro L'accusa è corruzione Tra privati Per una presunta Serie di scambi Di favori Tra il 2010 E il 2012 Eccolo qua L'ex DG Di Banca Marche Massimo Bianconi Ieri in tribunale Ad Ancona E poi Addio E siamo a Senigallia Addio a Lidio Chitarrista dei Moats È morto Girardi Aveva 83 anni Con la sua band Ha fatto ballare i turisti Di Senigallia Da Senigallia Cattolica Per gli amici Un omaggio Al suo amore Per il Milan Il funerale Nella chiesa Del Portone E questa era L'ultima pagina Della nostra rassegna stampa Noi ci vediamo stasera Alle 20.30 Con occhio Alla notizia Il telegiornale Se volete segnalarci Farci foto Fare le foto Video Segnalazioni in genere Come avete visto Poco fa C'è stato E' andato in sovraimpressione Anche il nostro numero telefonico Il 338 4968 250 Utilizzatelo E collaborate Con la nostra redazione Grazie a tutti Per averci seguito Buona giornata Grazie a tutti